D'accordo? Allora signori attenti! Questa è l'ultimissima possibilità che intendo dare all'Italia intera, quindi approfittatene. Signori approfittatene, datelo da me, perché purtroppo non potrò continuare con questa porta! Puoi smetterla di mangiare con le schifesse! Tu sei unile marrato! Tu sei unile marrato! La tua città è come una giungla, piena di zanzà! Tu sei unile marrato! Manda vergogna! Tu sei unile marrato! 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 Soi lascia unile marrato! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info